Benvenuti a questo nuovo episodio sulla fotografia, come fare fotografie migliori con il telefono. Lo abbiamo un po' tutti, un po' tutti lo usiamo, perché non sforzarci un pochettino per fare le cose fatte meglio? Vediamo fra pochi secondi come adottare qualche accorgimento per poi avere maggiori soddisfazioni. Primo suggerimento, c'è un'ottica nei telefoni, se scatta fotografie, un obiettivo per quanto piccolo c'è. E perché non lo puliamo? Sta in tasca, sta appoggiato, sta nelle bolse, sta ovunque, lo tocchiamo, lo palpeggiamo e naturalmente l'ottica si sporca e questo influisce sulle fotografie. Quindi la pezzolina, quella degli occhiali, va benissimo per pulire sia davanti che di dietro o viceversa e avremo così già risultati migliori. Proviamo a impugnare con due mani il telefono, un po' come se fosse una fotocamera. C'è questa tendenza a tenerlo in questo modo, tac, spolliciare e via che andiamo con lo scatto. Questo ci comporta una poca fermezza, non riusciamo a mantenere ben ferma l'inquadratura, oltre poi magari a tremolare, quindi avere un risultato approssimativo. E nel momento in cui andiamo a pigiare con il pollice, ecco che saltano fuori i problemi. Se ci impegniamo un pochettino e inquadriamo tenendo stretto il nostro telefono con due mani e sempre con attenzione a non mettere un ditone davanti all'obiettivo, che poi dà quegli effetti così magici, rosati, questi filtri naturali, ecco che probabilmente faremo scatti più nitidi, più fermi e anche più ragionati nell'inquadratura. Riempiamo il quadro, cosa vuol dire? Vuol dire avvicinarci ai nostri soggetti, non facciamo in modo che diventi immaginario il nostro soggetto per chi sta guardando. Abbiamo la possibilità di vedere subito, come stiamo inquadrando, perché non approfittarne per avvicinarci, per riempire il quadro e dare poi una maggiore restituzione di un maggiore impatto al nostro soggetto che verrà inquadrato in modo pieno e soddisfacente. Quindi non è complicato, come sempre vediamo, possiamo vedere, avviciniamoci, facciamo magari anche una prova in più, quindi un po' più lontano, un po' più vicino. Il close up, la ripresa ravvicinata e anche nel ritratto, anche in tantissime altre situazioni, ci dà un risultato più efficace nella fotografia finale. Proviamo a effettuare una ricerca quando effettuiamo le nostre riprese, quando ci troviamo davanti a un qualche cosa di particolare, del quadro all'interno del quadro. Si tratta di trovare situazioni che possono essere naturali, che possono essere artificiali, in cui riusciamo a inserire il nostro soggetto all'interno di una cornice. Avrà questo effetto incorniciato che porterà l'osservatore a concentrarsi sul contenuto dell'immagine. Questo non è complicato e ci permette anche di sforzarci un pochettino per ottenere fotografie maggiormente, più particolari. La regola dei terzi, tantissimi la conoscono, tanti ancora no. No, è una regola semplice dove, ipotizzando una griglia, una divisione in griglia in terzi del nostro mirino, della nostra fotocamera, del nostro telefono, andremo a collocare i punti di interesse dell'immagine nei terzi dell'immagine, dove ci sono le intersezioni di queste linee. Non è obbligatorio, però, se iniziamo ad abituarci a questo processo, a questa impaginazione nei nostri scatti, vedremo che ci saranno risultati più accattivanti, oltre al fatto di decentrare il nostro soggetto e ottenere un effetto meno banale, che è quello del soggetto centrale, un po' come sono io in questa situazione. Non è naturalmente obbligatorio, sono suggerimenti, sono quelle soluzioni che esistono da sempre in fotografia, in cinematografia, nel mondo dell'immagine, dove ci sono dei motivi ben particolari perché queste immagini ragionate in questo modo siano più efficaci. Quindi proviamo e avremo le nostre soddisfazioni. Linee guida, sfruttiamo delle linee guida se ci sono, quindi in un paesaggio, in una fotografia urbana, in città, se ci sono delle linee che possiamo includere nella nostra fotografia, porteremo l'osservatore a seguirle e naturalmente accompagnando lo sguardo verso quella che sarà la zona interessante della nostra fotografia, il nostro soggetto, ciò che ci ha colpito e che abbiamo voluto includere nella nostra fotografia. Le linee sono un po' ovunque, siamo circondati da linee, basta solo avere un po' di attenzione e vedere dove si trovano e cercare di includerle nella nostra inquadratura e ci accorgeremo poi che i risultati saranno più efficaci e più accattivanti. Quando abbiamo uno o più soggetti da fotografare, e questo anche per quanto riguarda le persone, fotografie di gruppo, proviamo a inserire numeri dispari, quindi uno, tre, cinque, sette e via andare. Chissà perché sono più efficaci nelle composizioni fotografiche e ci danno naturalmente risultati migliori. Anche qua non si tratta di includere o escludere certe cose. Quindi l'invito è sempre quello di provare, di vedere la differenza che possiamo avere con i soggetti pari, in questo caso i soggetti dispari, e valutare poi le differenze. Quando abbiamo la scelta, quando abbiamo la possibilità di vedere più risultati, potremo avere anche maggiori soddisfazioni. Ultimo suggerimento, non solo scatti verticali. Adesso c'è questa tendenza a impugnare il telefono in questo modo, a scattare, come ho detto prima, con il pollice e a fare fotografie verticali, che vanno benissimo, specialmente nel ritratto. Quando non c'erano i telefoni per fotografare, prima le fotografie erano tutte orizzontali, senza tener conto che poteva essere orientata alla fotocamera. E così anche il telefono. Proviamo anche a fare qualche scatto in orizzontale. A volte ci sono situazioni in cui si sviluppa il soggetto in orizzontale e richiederebbe un'inquadratura orizzontale. Oppure proviamo a farle entrambi, quindi avremo la possibilità sempre di valutare quale è la situazione migliore, quale è quella più efficace. Non fermiamoci soltanto alla prima situazione, possiamo provare le due varianti e poi eventualmente tenerci quella che funziona meglio. Anche per i video vedo tanti video girati in verticale che fanno benissimo quando sono rivisti su un telefono, che può essere orientato facilmente, sono molto meno efficaci sul monitor di un computer o di una televisione dove è un po' più complicato renderlo verticale così come è stato girato. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi il vostro like, ricordatevi di dare un'occhiata su tutti i miei contenuti, che sono tantissimi, sono linkati nella descrizione sotto il video. Basta farci un clicchettino sopra per accedere a una quantità di video esorbitante sulla fotografia e Photoshop. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima. Grazie.